Come molti altri grandi profeti, Lahiri Mahasaya non scrisse libri di suo pugno, ma insegnò ai discepoli le sue interpretazioni delle scritture. Un nipote del maestro, il mio caro amico Shri Ananda Mohan Lahiri, ormai scomparso, ha scritto quanto segue. Nella Bhagavad Gita e in altre parti del poema epico Mahabharata troviamo diversi passi di difficile interpretazione, viasa kutas. Leggerli senza interrogarsi sul loro significato vuol dire apprendere soltanto dei racconti mitologici, di natura alquanto insolita e suscettibile di fraintendimenti. Lasciare questi punti senza spiegazione significa perdere una scienza che l'India ha preservato con straordinaria pazienza dopo migliaia di anni di ricerca e di sperimentazione. La Kiri Mahasaya ha riportato alla luce, libera da ogni allegoria, la scienza della religione che era stata abilmente nascosta nelle scritture dietro enigmatiche metafore. Le formule del culto vedico non sono più un incomprensibile gioco di parole perché il maestro ha dimostrato che racchiudono un profondo significato scientifico. Sappiamo che l'uomo è di solito incapace di opporsi alle emozioni negative e ai cattivi desideri. Ma questi sono ridotti all'impotenza ed egli non trova più motivi per indulgere ad essi quando, grazie al Kriya Yoga, comincia a nascere in lui la consapevolezza che esiste una gioia superiore e durevole. Allora la rinuncia alla negazione della natura inferiore va di pari passo con l'acquisizione dell'esperienza della beatitudine. Se non avviene questo, le massime morali che si limitano a esprimere divieti non hanno per noi alcuna utilità. Dietro tutte le manifestazioni fenomeniche c'è l'infinito, l'oceano di potere. L'ansioso e impaziente desiderio di agire nel mondo della natura uccide in noi la venerazione per ciò che è spirituale. Poiché la scienza moderna ci dice come sfruttare le forze della natura, noi trascuriamo di percepire la grande vita che si nasconde dietro i nomi e le forme di tutte le manifestazioni fenomeniche. La familiarità con la natura ci ha portato a disprezzare i suoi segreti più profondi. Il nostro rapporto con lei è di tipo pratico e utilitaristico. Noi la stuzzichiamo, per così dire, per trovare il modo di costringerla a servire i nostri scopi. Sfruttiamo le sue energie, la cui sorgente ci è ancora ignota. In ambito scientifico il nostro rapporto con la natura è simile a quello esistente tra un padrone arrogante e il suo servo. Oppure, da una prospettiva filosofica, la natura è come una prigioniera dietro il banco degli imputati. Noi la interroghiamo, la sfidiamo e valutiamo minuziosamente i suoi dati empirici con metri umani che non sono in grado di misurare i suoi valori nascosti. Quando invece il sé è in comunione con un potere superiore, la natura ubbidisce spontaneamente alla volontà dell'uomo, senza tensioni e senza forzature. I materialisti, che non sono in grado di comprendere come sia possibile questo facile dominio sulla natura, lo chiamano miracoloso. La Hirimakashai, con l'esempio della sua vita, ha demolito il preconcetto che lo yoga sia una pratica misteriosa. Nonostante il positivismo e il materialismo dominante nella scienza fisica, chiunque può arrivare a comprendere, grazie al Kriya Yoga, il proprio giusto rapporto con la natura e risvegliare in sé un grande rispetto per ogni fenomeno, sia esso mistico o quotidiano. Dovremmo ricordare che molti di quei fenomeni che mille anni fa erano inspiegabili, ora non lo sono più e molti altri fenomeni a tutt'oggi misteriosi saranno facilmente comprensibili fra qualche anno. La scienza del Kriya Yoga è eterna, è esatta come la matematica. Proprio come non si possono cancellare le semplici regole di addizione e sottrazione, le sue leggi non possono mai essere cancellate. Riducete pure in cenere tutti i libri di matematica. Le menti logiche riscopriranno sempre le sue verità. Eliminate tutti i libri sullo yoga. I suoi principi fondamentali saranno nuovamente rivelate ogni volta che apparirà un saggio dalla devozione pura e quindi dalla pura conoscenza.